buongiorno vediamo oggi cosa ci dice l'oroscopo a riete il ricordo di alcune cose oggi potrebbe essere risvegliato e voi tornerete a soffrire toro una proposta di lavoro interessante amore a gonfie vele gemelli ti sentirai forte e i rischi ti attireranno cancro mettete più attenzione mentre fate le cose e non lasciate nulla al caso leone usate sempre razionalità e prudenza vergine oggi riceverete con ogni probabilità una gran soddisfazione bilancia oggi cercate di fare del bene e di cuore vi verrà presto ricompensato scorpione oggi buone possibilità di incontrare una persona del proprio passato sagittario persone noiose che vi circondano oggi potrebbero mettere a dura prova la vostra pazienza capricorno non affliggetevi più di tanto se avete mancato un'occasione importante acquario le cose vanno per il verso giusto almeno la maggior parte pesci non temete di guardarmi intorno oggi buone occasioni per nuove conoscenze questo è tutto a domani con il prossimo appuntamento dell'oroscopo